Ciao Marcello, un saluto a Dele e a tutti gli amici di Top Planet. Prepariamo le valigie perché si va a Cardiff. Il 3 giugno ci giochiamo la nona finale della storia juventina e speriamo sia davvero la volta buona questa. Una grandissima Juve che ha eliminato senza troppi problemi il Monaco, uno straordinario Dani Alves, sicuramente il migliore in campo, così come nella partita dell'andata. Un grandissimo assist per Mandzukic in occasione del primo gol e una straordinaria rete alla fine del primo tempo che ha tagliato definitivamente le gambe alla squadra francese. Peccato per il gol subito che ha interrotto il record che si apprestava a raggiungere il nostro grande portiere Gianluigi Buffon, ma pazienza. L'importante era raggiungere l'obiettivo della finale di Cardiff che bisogna assolutamente vincere però questa volta. Bisogna assolutamente vincere questa benedetta Coppa, sia l'avversario il Real, probabilmente sarà il Real, o l'Atletico, ma bisogna alzare finalmente al cielo la Champions League. Siamo ancora quindi in corsa per tutti gli obiettivi, cerchiamo di vincere il primo possibile lo scudetto, ci dedicheremo quindi poi alla finale di Coppa Italia e infine alla finale della Coppa più prestigiosa. Ce ne andiamo tutti a Cardiff, Marcello, ne andiamo per vincere. Forza Juve!